La vita per la maggior parte della gente è andare dal punto A al punto B. Ma per me non è così. Io ho il problema del punto B. È strano che tu veda la vita così complicata. Sono qui a New York per vivere accanto ai miei figli. Avuti da un inglese con la quale ho vissuto dieci anni. In Inghilterra, a Parigi. Intanto ho una figlia con due lesbiche. Ho sposato una cinese per diventare americano. E la vita non è complicata? No. 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 No.